Non dormo molto bene da quando sono arrivata qui. Io cerco di pensare alle cose belle, però... Però poi i pensieri bruti arrivano lo stesso, come i topi che sentono il formaggio. Allora devo fare in modo che la mia mente diventi come un gatto. E li uccida. Mio padre tutti i giorni si alzava alle sei e tornava la sera per la cena. E non ho mai capito che lavoro faceva. Non ho mai capito se ne aveva uno. Era un uomo... particolare. Molto possessivo. Quando i miei genitori litigavano, io andavo nella mia camera, abbracciavo le mie due gattine, fissavo il crocifisso sopra il letto e pregavo. E dicevo padre nostro, sempre più forte. Fino a quando non li sentivo più urlare e sentivo solo la mia voce. Così non sentivo le sedie, non sentivo i piatti, non sentivo nemmeno i colpi contro i muri. Vabbè. Vivo con Maggie da tre anni. Molte persone non capiscono il nostro rapporto. Pensano che sia malato. solo perché non voglio lasciarla mai e soffro quando non c'è. Ma io le voglio bene. Quando siamo sul letto, ci guardiamo. E lei si addormenta piano, piano. Mentre le faccio le carezze sulla pancia. La pancia morbida, morbida. E io penso che sono molto fortunata. E che l'amo tantissimo. Con quel suo visino dolce e gli occhi grandi che brillano. Il giorno che il vicino ha piantato i fiori gialli pioveva. Qui piove quasi sempre. Ma a me la pioggia piace. Qui in Inghilterra la gente è strana. Non è come prima. Prima stavamo a Roma. Sono anche andata a sentire il Papa in piazza. Perché io sono cattolica. In Romania siamo pochi cattolici. E' stato bello. Dice delle cose davvero interessanti. Cioè diceva. Parlo di quello di prima. Quello di adesso si fa fare le foto col naso da paliaccio. Chiama la gente al cellulare. Non è mica serio. Però vabbè. È sempre il Papa. Quel giorno parlava di immigrazione. Me lo ricordo bene. Perché era l'ultima volta che lo andavo a vedere prima di partire. E ho pensato che parlava un po' anche di me. Ha parlato della fede e della speranza. ha detto che quelli che vanno via dal loro paese vogliono una vita migliore. Che vogliono dimenticare il passato. E io ho pensato che è bravo il Papa. Anche se io me ne vado, lui resta. Mi ricordo che una volta sono andata dalla mamma mentre puliva. e ho chiesto se potevo aiutarla. Lei mi ha detto di sì. Mi ha fatto salire su una sedia. Mi ha abbracciata. e mi ha dato una spugnetta. Ho passato il tempo a immergerla nell'acqua e strizzarla. Immergerla e strizzarla. Mi piaceva. Mi piaceva. Perché mi sentivo un po' come Dio. Facevo piovere. Secondo me quando Dio fa piovere strizza le nuvole. quando si fuck a packare il cane. 1967 il cane inspirere Il canale verž pur 5 i qui this